Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono sempre io Mr. L e volevo dirvi che non sono stato bocciato, quindi non ho caricato un po' di gameplay perché ero un po' in ansia per via degli scrutini, degli esampi, delle se mi promovevo e non mi bocciavano e sono riuscito a non farmi bocciare. Bene ragazzi, mi è andata bene, speriamo, spero che vada bene anche a voi. Ricordatevi, scegliete sempre scuole facili, non fate come me. Quindi eravamo arrivati la scorsa volta in una parte molto divertente dove ci portiamo dietro anche Rackle, se non vado errato, dove dobbiamo, come dire, cercare di fuggire da un posto pieno di militari. Spengo la luce meglio. Ciao, che atmosfera ragazzi. Quindi, la serie non l'ho continuata, potete stare tranquilli, non è perché non vede i like o robe varie, no, no, va bene comunque, è il suo problema. Sbaglio, qui è caduto qualcosa. È caduta questa scatola qui, potremmo usare questa. Abbiamo ottenuto una cardbox. Ok, era una carta per aprirci porte. Però ora qua è difficile ragazzi. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia per di qua, si c'è sporciti non, ok un attimo dimmi la prendo con calma ragazzi eh no perché lì ragazzi questo soldato là ci gira e ci scama che poi un attimo vediamo qui item cart ah ci possiamo nascondere usando shift io sto premendo quello che su minecraft sarebbe shift ragazzi ma che diavolo un attimo ma su minecraft shift di solito c'è questo pulsante qua cosa aspettate un attimo ok non ho capito neanche io molto bene cioè cosa cosa diavolo sia sto shift perché io l'ho premuto ho controllato non mi funziona niente vabbè forse devo usarlo se non in determinati posti oh mio dio mi sto comprendendo ah si non è necessario cioè se è da usare solo in determinati posti mi hanno sgamato fermati qui cosa stai facendo game over cioè si ma non è che posso usare la scatola tipo mister bean che mi mettono la scatola in testa e non mi vedono cioè cos'è sta roba fortuna che era un gioco serio si cioè dai non saranno mica così stupidi sti soldati cioè forza su si lo so bene va bene andiamo avanti no mi addormento io con la luce io con la luce chiude spenta meglio avere la luce accesa ok cristina d'arena dove si gira quello lì a guardare bene ok no un attimo un attimo io per di qua dove vado no devi vado a incastrarmi dai 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 ok ok girati girati dall'altra parte se possibile no non è quella la parte che volevo io bene aspettiamo qua vai così vai così aspetta 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 si vai così ragazzi posso salvare no volevi cavolo oh cavolo non sono stupidi si spostano oh mio dio no down down andiamo down andiamo giù continuiamo ad andare giù non vaffanculo brutta bestia ok ok comincio a capire da che parte sta questo gioco quindi non dovremmo essere nel piano più in alto di tutti e quindi noi dobbiamo andare giù e finché ho capito se la scatola è inutile si vabbè chi se ne frega non so perché ma non mi funziona la scatola non shift io shifto non shifta non so che farci o cioè si voglio risentare per di qua da che parte si va per di qua ma anche io dove devo andare io cioè si non c'è dubbio io devo andare down down mi sto facendo scammare i modi down quindi si correzione sto schifo vai si vai vaffanculo vai 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 spam a spazio spam a spazio vai così ok ok quindi con calma circospensione ottimo eccellente bene dobbiamo andare giù noi giù ancora cazzarola eeeh si ma dai ma come faccio io qui cioè campero davanti alle porte sono peggio di mestri qua nemmeno io campero così tanto con i crits quando giocavo a call of duty ma dannazione ma cioè io poi non capisco nascita perché non me la fa se si può usarla no 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 cosa sto facendo squat with shift ho premuto ogni pulsante sulla tastiera ragazzi non mi ha shiftato quindi vaffanculo sia da fermo che in movimento non non mi funziona non so perché non aspettate nemmeno di provo a cambiare strada io vai se magari dovesse andare per di qua sono bloccate giustamente andiamo giù per di qua e fottete eeeh ma dai ma mi aspetta aaaaa 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 io volevo farne tante di gameplay ma mi sa che me ne viene fuori uno molto lungo qui e basta aaaaa che palle chi ho capito dove impara ma si è vero sta merda qua raccogli su 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 comincia a tagliare tra poco chi poi lui non mi fa salvare per prendere i checkpoint eh no volevi troppo comodo cioè io mi devo ricordare i punti in cui le guardie mi sgamano cioè qui non mi sgamano se vado allo giù per di qua mi sgamano no 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 aaaaa 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 che viene fuori solo uno con molti tagli perché veramente ecco sul colpo sul colpo sul colpo a cristo il ginocchio malato a gioco di merda mi sono preso il ginocchio con una crosta che mi sono fatto mi sono fatto male cacchio vaffanculo basta ma questa qui devo raccogliere questa scatola punizione ogni volta che perdi maledizione ok quindi penso di aver scoperto il codice quindi ma io non posso stordirgli questi qua buca degli occhi madonna più si va giù più si fanno cazzuti ma vaffanculo mondo merda ok ricominciamo quindi devo scattare e non pensare in poche parole devo essere stupido non devo pensare guarda avanti senza guarda avanti a caso so giù per di qua vaffanculo te ciò per di qua vaffanculo pure te ora qui sono ok quindi ho capito il codice ho capito come devo fare cristina d'avena raccogli questa merda che mi sarà utile più avanti oh forco zio giù 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 per di qua giù 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 eeeh ma dai stuprate nooo sono stato io stupido stavolta ci metterò mezz'ora mi carico un gameplay di mezz'ora ragazzi per farmi perdonare del mio periodo di assenza di assenza maledizione poi sono già stufo io perché non vi dico ma andiamo avanti ok dai 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 motivati dai 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 su spama spazio spama spazio 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 vai così giù giù ancora più giù giù muoviti te girarti vai girati brava bestia quindi ora giù per di qua e ora qui ma è un'orgia mi devo mettere qui ora arriva sto qua mi si sposta per di qua sto cazzone qua si gira da na 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 e vado giù per di qua ora però mi ritrovo nella merda guardate qui che roba posso muovermi fai così porca troita nooo ok ok quindi vanti 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 scatola spazio 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 madonna cara questa parte qui la taglio vai 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 giù 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 su 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 bene ok quindi primo piano è andato ora quindi io qui devo fare questa manovra qua bene a posto ok vai così vai così ok qui c'è la parte difficile cosa ho sbagliato dove sono andato sono tornato su come una b sono tornato su come un animale maledizione ma è stupidone vai destra giù ok bene 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 ok quindi io sto fermo e mi studio il movimento delle guardie ragazzi e io potrei andare qua giù come potrei andare lassù no perchè lì vedo che c'è il cazzone che fa la guardia dai queste parti sono frustranti cioè ah 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 ed è anche tanto più lungo di paranoia che questo gioco maledizione che poi questa scatola qui devo portarmela dietro per forza che magari giù c'è una parte in cui mi serve che poi si la sapesse usare sta merda di aver risolto tutti i problemi cioè ma che devo premere è shift non va è na 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 non funziona un cazzo ecco attiva i tasti permanenti vaffanculo mi si apre una roba a caso quando premio shift via la freccetta ok quindi super di qua manovra evasiva lo so che sono chiuse le pressioni super di qui per me sapete cosa ragazzi sono tipo i sogni che hanno preso vita una roba simile per me quindi qui io vediamo un po' se ho tempo e ho stesso tempo di ho un no ma per me non è neanche qua guardate è lì sopra non posso vedere il movimento dell'altro come fa no è impossibile qui non posso andare perché è tutto bloccato no guardate qua infatti per andare su è praticamente impossibile l'unica è ok ok quando il vigliacco si gira verso dietro è il momento di scattare scatta 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 qual è il piano? ora cosa dobbiamo fare? non riusciamo mai a uscire in questo modo sta calma forse forse posso distrarre con qualcosa scatola mi funziona ora se io torno su no non tornare su nooo dannazione che poi questa parte qui se la facevo con i crisi ragazzi scattavano di quelle riusate assurde ma sono un po' spompato 10 e 13 di sera quindi sono un po' ho anche sete sono stanco perché ho fatto robe prima ok ragazzi ora vedetevi la lan godetevi la lan super fiera ragazzi stessa ma è una vera scatola vai non è vero che magari vado su item vado su usa porca troia ragazzi c'era giusto giusto il porca troia dovevo maledizione madonna sentite gli schiaffi sentite e sono meritati dal primo all'ultimo questi guarda box vergognoso vergognoso ragazzi vergognoso e ora se io sto fermo non mi sgamano no ok un attimo allora fatemi capire come funziona la scatola questa qui ragazzi la chiamiamo la scatola dei desideri perché non lo so perché ho desiderato tante per ad usarla e ci sto riuscendo finalmente che come dice premi shift shift non fa diciamolo insieme un cazzo di niente take off the box information quando ah ah porca troia porca ahahahahah ci sono due persone qui sotto dai ma non ci credo io madonna guardate che sono soprammobile fottuto ahahah non vi vedrete mai mi sento tipo una dei grandi mainstreami della spia di team fortress ah no ok si va bene oh ragazzi ho imparato a usare la scatola la scatola dei desideri il prossimo passo è imparare a usare la magia imparare a sperare palle di fuoco e dare le mani al prossimo passo gioco del cazzo ma redizione quanto ci ho messo ragazzi nemmeno penso che una scimmia sarebbe ci sarebbe arrivata prima di me sedici minuti ragazzi ci ho messo chiuso senza contare che ho altri tre minuti di registrazione prima basta cioè adesso ho la vita semplificata in una maniera assurda cioè io me la sono fatta tutta quanta senza bisogno della scatola figuriamoci con la scatola che puttanata diventa guardate non mi serve niente guardate ormai so so muovermi anche senza la scatola uh giù giù ok ci sono troppi devo fare qualcosa per distrarli vediamo se abbiamo qualche item importante DOL lo so lo sapevo se io usassi questa valbola per distrarli io l'ho sparata a cazzo ah perchè si mette a gridare quando la tocchi guardate lì tutti i soldati va tutto benissimo Regan questo presto andiamo fuori via 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 ahhh si mette a gridare oh oh perchè ha gridato ah è caduto presto Regan mettete a cuore no 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 madonna via via scappate ah 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 ce l'abbiamo fatta siamo fuggiti fatemi salvare madonna mia che fieri immagine di copertina ci stanno osservando Regan dalla finestra Regan dobbiamo essere più veloci fatemi salvare il computer è anche buono crashare adesso sputerà la registrazione e tutto il resto ok quindi pant pant stanca ci abbiamo fatta Regan siamo usciti Regan Regan dove sei andata SASS ok no dai mi viene ancora da fare la voce di papyrus cioè io mi sembrava che fosse stata dietro di me lo so io stavo correndo cioè io stavo correndo a gambe elevate ma eravamo assieme fino a prima adesso che è successo devo trovarla ma david potrebbe 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 aspettare ok chiederò l'aiuto di david david sono sicuro che in due la troveremo salva 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 quanto siamo con la registrazione 19 minuti porto un gameplay di 25 minuti guardate vado da david e poi stacco perché no ma poi mi toccherà tagliare parecchie robe vi porto un gameplay lungo ok mmm prima siamo andati in una sottospecie di diciamo laberinto io e un mio amico ho imparato a orientarmi con le mappe ragazzi ora mi sa straventare guardate la charge è no questo che è il kindergarten charge è qua noi siamo assente della charge qui c'è da 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 dov'era il parco qua vabbè lo trovo a caso chi se ne frega su gente addormentata a caso su su qua a destra siamo all'ospedale qui c'è il parco che non ci interessa no che non mi ah ecco lì l'ho beccato lo strutto l'ho beccato aspettami aspettami ti ho visto c'è il camion nascondino figliacco ti venga a prendere che poi noi siamo qua in un camicia la notte david devi aiutarmi cosa succede cosa c'è regan una mia vecchia amica vecchia amica mhm lei lei potrebbe essere uccisa dai soldati proprio ora per favore aiutami a cercare regan potrebbe essere uccisa se noi non la aiutiamo e anche n cosa succedeva se david soffi calmati adesso cosa diavolo sta succedendo cioè al centro commerciale c'erano dei soldati ho provato ad aiutare regan siamo fuggiti ma regan soffi cosa c'è che non va io non lo so mi sento solo stanca all'improvviso e soffi ora calmati ti stai veramente stressando troppo ok adesso ti ascolto ma prima hai bisogno di calmarti sospettosi soldati cosa potrebbero essere magari l'esercito è stato coinvolto in tutto ciò non penso che loro fossero soldati reali io intendo erano così strani perchè dover però firing squad ragazzi non è la non è il protone dancia fiamme come avevo detto io ma è il protone delle esecuzioni almeno immagino eh mi sento troppo strano perchè una ragazza delle scuole superiori dovrebbe essere inviata davanti al protone dell'esecuzione si hai ragione proprio non ci capisco un cazzo proprio ma sono sicuro che la tua amica sta bene non ho visto nessuna ombra o soldati come di quelle robe di che hai visto forse se ne sono andate via cioè sono sicuro che starà bene non preoccuparci in ogni caso prendete una pausa non dovresti sforzati troppo è quello che ho sempre detto scusami scusami per averti sempre fatto preoccupare david a chi se ne porta di me io starò felice che non fai nulla di pericoloso ho sete devo bere ehi sophie io sono veramente preoccupato per te lo sai sei sempre dolorante come dire ogni volta che ci incontriamo siamo inseguiti da delle ombre inseguiti da dei soldati non sappiamo che succede siamo spaesati insomma si comincia a preoccuparsi anche a scuola n sophie andiamo a pranzo o a cena quel che è si dammi un secondo che c'è che non va pensavo di aver avuto cinque books non so se ci sono no non è libri perché libri è b o o si non è libri sono dei cibi diciamo che gli abbia fatto cadere da qualche parte e qui abbiamo le tre bollette sempre insieme e rega ehi guardate ragazze ho appena trovato una fever fever il telefono è lontano e in carica sul letto quindi non posso alzarmi non so cosa sarà fever oh su serio? sembra veramente forse cioè penso che loro ci hanno ciullato la merenda che fortuna si eh penso che qualche imbranato gli abbia lasciato cadere oggi avrò un dessert in più avrò un dessert in più oggi ci hanno ciullato la merenda puttane and sophie oh se voglio un po' di monete posso pagare per te e per il tuo pranzo oggi eh un attimo ah io oh c'era santissimo io stavo guardando pensavo che questa qui fosse Sophie e questa qui fosse Anne e qui dentro le bollette in realtà noi siamo qua e Anne è qua e io non non riuscivo a capire ah si va tutto bene dopo te non ho tanta fame ho perso l'appetito altri ricordi ragazzi sono veramente affamata lo sapevo che avrei dovuto farsi Ken mi offrisse il lancio il lancio ragazzi nuovo termine su dizionale italiano inglese lancio forse ne ho abbastanza per un gelato mmm questa girata è veramente grandioso forse ehm avuto fortuna dopo tutto occhio che andiamo a sbattere bondaba ragazzi proprio benissimo e Sophie fa un grido e questo qua oh scusami eh non stavo guardando col telefono in mano a catturare pokemon anche i Chris ragazzi come avete visto nei episodi di pokemon go va in giro a catturare a sparare pokemon in giro non guarda neanche dove va che già va sotto le auto quando guarda la strada figuriamoci se guarda il telefono cioè adesso il suo tasso di mortalità si è alzata di sopra del 50% non ci sono io a controllare la strada per lui oh scusami non stavo guardando sta bene ti sei fatta male ah il tuo gelato mi dispiace te lo ripago ti è andato sull'uniforme stai bene? sto bene è solo un gelato scusami per avertelo sparato in per esserti arrivato in faccia ma vuoi chiedermi qualcosa? va tutto bene? sembra un po' strano cioè che dire ah no è lui che parlava maledizione ragazzi sono un po' stanca sono I'm always pain non so che significa sto veramente bene quindi per favore non preoccuparti sono anche un po' raffreddato ragazzi non hai bisogno di pagarmi il gelato in ogni caso finisco qua salvo e se mi va bene ve ne carico una carico sto qui e ne registro su oh 27 minuti di video ehi calma calma va bene ok fammi salvare che interrompa qua 9 che poi ragazzi non è pessimo ma ci sono alcune parti che non mi piacciono cioè vabbè la torta qui è veramente molto buona ok quindi vengo qui ogni volta dopo lavoro mi dispiace veramente per prima spero che tu possa perdonarmi mi hai fatto una cena cazzo se ti perdono eh si grazie molti perdono possibile immagine di copertina eh ragione a questa ha una faccia tipo ahahahah è come non so cosa mi è messo così mi ricorda tipo come quando la scena trono di spade tu va lì gli butti una torta avvelenata per uccidere il re il re se ne accorge che è avvelenata quindi ci rimane così è veleno questo non so perché ma mi ritrova tipo mi ricorda tipo trono di spade la più in serioso questa torta del cioccolato è veramente grandiosa mi sento come se fosse da tantissimo tempo che non ho mangiato qualcosa di così buono ah ci metto a piangere eh Sofia che cerca ah gli ricorda a sua madre che gli fa le torte ah ho capito ragazzi ahah david noi qui diciamo la storia e quindi sei stata abolizzata beh mi è successo anche a me qualche volta ma la scuola flight lui è un aeronauta la scuola di volo è differente da quella cattolica per ragazzi eh non ci sono bollette diciamo cioè ah si è vero quando loro non possono risolvere i loro problemi da soli da soli loro attaccano agli altri fa schifo essere la loro vittima certamente yeah io hai ragione forse le ragazze che mi stanno pulizzando tipo non sono abbastanza di gamba per cavarsela da sola e io so che quando lei era una bambina lei aveva dei problemi in famiglia ma io ricordo che noi eravamo giocavamo sempre insieme quindi madonna ragazzi non potete immaginare cosa ho appena fatto io mi sono mezz'ora di video mi sono messo sapete è vero che le cuffie hanno l'auricolare che si alza e si abbassa l'ho appena fatto mi sono controllato se avevo l'auricolare abbassato che magari avevo mezz'ora di video che non ha registrato la voce mi tiravo scaffi ragazzi interruzione a cazzo ma vabbè noi quando eravamo mi ricordo quando eravamo piccoli noi giocavamo sempre assieme quindi non ho il coraggio di dire di fermarmi mi fermo mi sento come se non so che significa mi sento come se fossimo ancora amiche non so come ti adorlo David non hai bisogno di torturarti così in questo modo forse dovresti solo essere onesta e parlare con lei immagino vabbè scusami io lo so che sono un totale sconosciuto che mi ha anche rovesciato il gelato ma mi ha offerto una torta quindi non è un mio affare qui ragazzi si può notare che aver fatto il gioco è quasi la stessa persona perché c'è su paranoiac che c'è sempre lo stesso concept la ragazza con dei problemi il ragazzo paresemente innamorato su paranoiac innamorato in calore sto qui innamorato l'altro innamorato in calore che sono due robe differenti che cerca di aiutarci insomma si stesso concept c'è la stessa persona che ci lavora dietro mi sa o lo stesso team con la stessa idea non dire questo mi sento meglio soltanto per avere qualcuno che mi ascolta grazie tante ok fammi salvare basta la torta era veramente deliziosa e sono felice che tu mi abbia ascoltato non avrei avuto in cui parlare non ho cazzo ma che sete devo andare a bere ragazzi devo salvare devo fare un sacco di robe non ho nessun altro in cui parlare beh ci vediamo si non penso sia un addio perché dire beh addio è una roba di astronomi tipo beh ci vediamo ci chiama Sofì io io vivo qua vicino in questo momento quindi se ti incontrassimo ancora ci incontrassimo ancora ti piacerebbe parlarmi? cioè parlare con me? io posso anche già mi piace ascoltare se vuoi cioè sì vabbè va bene sì sì certo va bene se tu sei hai alcuni problemi vieni in questo ristorante e ci vedremo un lato e potremo parlare ok è un tipo molto simpatico all'inizio mi ha fatto una pessima impressione ma in realtà mi sta simpatico questo tipo ecco qui perché ogni volta che noi ci incontriamo noi abbiamo sempre dei problemi di cui dovremmo parlarli ogni volta che noi ci incontriamo tu hai sempre dei problemi specialmente in questi giorni e non posso aiutarti mi dispiace no non è veramente non è cambiato veramente niente da quando ci siamo incontrati è solo che succedono cose brutte l'una dopo l'altra e io adesso sono anche non riesco a dormire soffro di insonnia e quindi sono molto irritabile ok finiamola qua non ho capito un caso di quello che ha detto un sacco di persone soffrono di questa cosa qui no no scusate un sacco di persone soffrono non voglio essere colei che si metta a piangere per questo io posso mi dimentico delle cose brutte col tempo mi comincia a starmi simpatiche anche da ragazze ragazzi cioè non è questo qui non è uno di quei giochi che ti cattura fin dall'inizio ma svelando la storia col tempo ci si porta dietro dentro piano piano cioè all'inizio non era nient'altro che una ragazza con i capelli rossi non sapevo niente di lei non mi sembra neanche simpatica poi adesso hanno introdotto la sua storia com'è lei e cominciano quindi a creare la personalità cioè ci sono alcune parti in questo gioco che non mi piacciono molto come potete anche vedere nei gameplay precedenti anche prima che ero un po' spompato ma cioè si hanno le loro belle idee da mettere dentro e questa situazione è più importante noi non c'è non vediamo una singola persona sveglia e non so cosa stia succedendo potrebbe anche essere puro subconscio questo qua ehi Sofì fammi salvare ti prego di basta devo andare in bagno fammi stoppare la il dialogo così posso salvare di questo ehi Sofì hai visto il tuo padre ultimamente? eh oh mio Dio mi sono dimenticato il mio padre tuo padre sta a lavoro un sacco vero? quindi mi stavo chiedendo se tu l'avessi visto magari lui a casa no lui non era se ne è andato dicendo che lui era a lavoro quindi sono sicura che non è qui vado a cercarlo sei preoccupata per lui vero? ma io sono più preoccupata per Regan a dire vero e anche per Enne vabbè Enne sei stata una puttana l'hai abbandonata toh tu sei debole non meriti di stare con me corri pure via gallina cioè non è stata molto simpatica con Enne beh vado a cercare anche queste due tuo padre lavora alla GP mi sta per il ciappa? no vabbè Jordan e Chase giusto? vado a cercarlo e tu finisci prima vieni alla piazza del cazzo che ti frega la fontana in piazza che mi hai incontrato prima grazie David lo farò fammi salvare fammi salvare David no! no! falla andar via falla andar via falla andar via non c'è nessuno per oh parte bellissima sta qua ragazzi cioè fidatevi in me raga cioè sta quindi lui è qua che ci chiede che sei preoccupata per tuo padre sei preoccupata per le tue amiche Anne, Regan quindi Sofì dice tu invece David non sei preoccupato per nessuno dei tuoi amici o dei tuoi parenti bella questa parte cioè c'è nessuno per cui tu stai andando in cerca David cioè per cui tu sei preoccupato nessuno che è veramente importante per te che vuoi vedere nope mi sta risposta alla sense nope sono soltanto felice di sapere che tu sei in salvo ooooh cioè potremmo dire che non è che sta buttando sarde ma sta buttando trotte ragazze proprio mmm cioè quindi almeno sta qua non è in calore come come si chiama come il signor Miura di Paranoiac beh ci vediamo dopo sta attenta sta attenta non ho visto che parlava si 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 vai così ragazzi quindi interrompo qua il gameplay vedrò ricaricarne uno subito ora mentre edito sto qua e ci si vede dopo anzi no siccome mi stufo poi a editare intanto vedo i secondi che vanno su 36 minuti 43 44 45 46 ok basta quindi interrompo qua e ne carico uno subito dopo ma prima vado a bere del tè che veramente ho sete ma 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 ma